Attilio Urciuolo e-commerce e web design Questi sono i gradini che appartengono al piano superiore, l'area antistante, l'ex struttura, l'ex gille, è diventato il montezzaio, più volte ve l'abbiamo fatto vedere in tutto il suo degrado, però noi andiamo a vedere giù nel secondo livello cosa succede, perché c'è davvero di tutto e di più. Questi dovevano essere i giardinetti che poi accedevano ai garage dell'ex gille, dell'ex cinema Eliseo, una struttura come vedete davvero in balia del degrado, ci sono le scritte, i messaggi d'amore che forse sono l'unica nota di colore in questa zona. Vedete tutto è stato smontato, questi sono resti scaricati dall'alto, ovviamente una struttura che è stata trasformata anche in Vespasiano, in gabinetto, come si tratta le tracce. Vi facciamo solamente in travedere, visto che sono immagini anche piuttosto forti, considerando l'orario in cui andiamo in onda. Seguitemi perché c'è davvero di tutto in questo piano inferiore dell'ex gille, struttura che deve essere destinata alla casa del cinema Camillo Marino, Giacomo Donofrio, però per il momento è una struttura solamente in mano ai vandali, vedete anche questa siringa. Insomma i ragazzi sono soliti venire appunto a fumarsi le canne, sì, insomma sì, questo sì. E dove vanno? Sotto? Qua sotto, anche sopra ogni tanto, però qua sotto diciamo si fa anche uso di sostanze un po' più pesanti rispetto alla meravigliana. Avete mai visto qualcuno? No, visto no, però insomma se si va qua sotto comunque si può notare che sono siringa per terra. Poi c'è degrado, vediamo comunque, non si può neanche camminare là sotto.